Si tratta di una sindrome con dolore cronico che colpisce i legamenti, le fibre muscolali, tutte le articolazioni del corpo. Si manifesta con un dolore costante alla colonna vertebrale, alla nuca, in altri distretti corporei e anche periferici. Si caratterizza in particolare per un senso continuo di stanchezza, la cosiddetta astenia. Colpisce per la maggior parte le persone di sesso femminile, con un rapporto da 9-10-1 rispetto a quelle di sesso maschile. C'è un picco di manifestazione intorno dai 25 ai 35 anni e tra i 45 ai 55 anni. La diagnosi è complessa in quanto è fatta solo con segni clinici, non esistono esami biochimici o strumentali che ci aiutano a fare la diagnosi della patologia. La presenza di dolore che si potrà per 8-3 mesi riflattare tutta la terapia e la presenza di almeno 11 dei cosiddetti 18 tender points, cioè i punti dolorosi, ci raffigurano un quadro di potenziale fibromialgia. Oltre al dolore, i pazienti sono caratterizzati da un'anestemia incontrollata, cioè un senso di stanchezza e di affaticamento, da disturbi del sonno, da un colon irritabile e altri segni specifici di disagio del paziente. Per migliorare la qualità di vita delle persone si cerca sia di controllare il dolore ma anche di aiutare il miglioramento del profilo morale, quindi utilizzando in prima dei farmaci analgesici e associati anche ai farmaci antidepressivi. Presso la terapia di dolore dell'ospedale di Niguarda, oltre alle tecniche farmacologiche, vengono utilizzate delle tecniche locali di trattamento di infiltrazioni, fino ad arrivare all'utilizzo anche dei neurostimolatori a scopo antagico, i cosiddetti pacemaker del dolore. Per quanto riguarda i trattamenti farmacologici, di recente vengono sempre più utilizzati i farmaci derivati dalla cannabis, con lo scopo di migliorare oltre al dolore e anche migliorare l'umore e il sonno delle persone.